Un quadretto proprio particolare, diciamo che è un quadretto di persone che lavorano a Telecafone che stanno in questa compagnia. Io sono Antonio Fiorillo, insomma penso che qualcuno adesso mi conosca, Aldo Leonardi che è poeta, prete e per l'occasione infermiere adesso. Io sono il maestro Quetta, poco conosciuto televisivamente. Direzione orchestrale, il maestro Quetta. Sono l'autore di tutte le canzoni di Telecafone, di tutti gli arrangiamenti e chiaramente ho curato le musiche di questa commedia, molto divertente e anche le musiche sono abbastanza belle, non posso parlare io perché sono l'autore di queste canzoni, comunque sono bellissime musiche. Si sente il brusio? Comincia.